Beatrice, una vittoria che ci voleva anche se non avete brillato. Tu come ti sei sentita e come puoi commentare questa partita contro il Ghent? Allora, abbiamo cominciato non molto bene, poi comunque siamo riuscite a limitare gli errori i set successivi. Dovevamo farlo prima e comunque non è stata chiaramente una delle nostre migliori partite. Io sono felice di aver giocato e comunque di aver aiutato la squadra anche a vincere. Ecco, dopo 2-3-0 ci voleva questa vittoria, giusto? Sì, sì, certo, ci voleva una vittoria. Non è stata proprio netta come sarebbe stato meglio. E quindi ci voleva comunque. Adesso sabato, una partita ormai vicinissima perché tra due giorni contro Monza bisogna ripartire anche in campionato. Sì, dobbiamo ripartire in campionato e cercare di scalare anche un po' la classifica. E quindi queste partite, le prossime due partite fino alla fine del giro d'andata sono importanti per noi anche e soprattutto per il morale. Di Uff quanto vi manca in questo momento? Certo, il suo aiuto che dà la squadra è veramente molto importante. Comunque non dobbiamo diventare dipendenti da un giocatore. Quindi questo ci insegna anche a dover cercare di trovare delle soluzioni anche senza di lei.